Figlio al prodigo torna sempre, come o poi. C'è stata una palese, diciamo, rinascita della spada di Reattu. Magari ce le diciamo addietro. Evolge, rimaniamo qui, Evolge. Ci siamo sempre evoluti bene. Andalusia, terra di flamenco, Torrelli, spiagge mozzafiato e di un totale, incontrollabile delirio collettivo. E oggi vi mostreremo che fine hanno fatto i protagonisti di quella pazza odissea nell'ormone. L'uomo che parlava alle colonne, Mattia. La colonna mi ha provocato. Quella è una cosa che non è mai stata detta. Pensavo che sia stato io, ma ho iniziato per secondo a sto giro. Possiamo anche lanciare un messaggio alla colonna. Se un uomini lo dovessi rincontrare in quel famoso parcheggio, andrò lì e gli scriverò magari un messaggino d'amore. Ma non c'è nessuno con i c***o figli c***o! Non c'è nessuno dai c***o! Essere tornato è emozione pura, bellissimo, ragazzi. Figlio al prodigo torna sempre, prima o poi. Per fortuna una pazzamita! Io quando ci ripenso mi elettrizzo. L'entrata in spiaggia. Non capivo niente, non riuscivo neanche a parlare. Poi vediamo come si evolve. Evolge. Evolge? Evolge. Rimaniamo con Evolge. Io invento le parole. Daniele, piacere. Piacere, Mattia. Molto piacere. Tra l'altro ho fatto richiesta all'Accademia della Crusca. Della Crusca per accettare la parola, perché molti mi hanno detto che suona meglio. Ideatore di neologismi e artista sopraffino. C'era proprio un'orgia di pennelli, definiamola così. Ho fatto un'opera d'arte senza ombra di dubbio. Io mi ricordo che vissero Simone e Denise. Vince la coppia Simone e Denise, la migliore di quelle con entrambi gli elementi dipinti. È stata palesemente una truffa, non doveva vincere loro. Fabiana l'avevo proprio risaltata, sembrava una scultura greca. Sotto le mie mani. Linguista, scultore, ma anche spadaccino. Io da un'ora che c'ho il b***o. Eh dai! Bono? C'è stata una palese, diciamo, rinascita della spada di Riatto. La situazione si è evoluta, si è evolsa con Clea diversamente. Perché io inizialmente non mi piaceva, tra virgolette. Poi c'è stato quel bacio dopo 1550 minuti. Dopo il programma non c'è mai più stato niente, zero, totale. Io sono di Milano, lei è di Roma, le strade quando si dividono, si dividono. Ma che fai? E sto mojito! Ma torniamo indietro alla tua ex originale, Lucrezia. Vi sentite ancora? Lucrezia ha presentato la mia attuale ragazza. Però sai, non è che abbiamo un bel rapporto, adesso è Lucrezia, quindi magari ce le diciamo addietro. Che ci rimette sempre, poverina, è la mia ragazza. Scusate, Ruttino. È così Lucrezia, non potevo aspettarmela in maniera diversa. È sempre troppo lei, capito? In ogni situazione deve sempre esagerare su tutto. Tanto, no! Tanto di telecamere, per favore! Saresti disposto a fare pace? Sono aperto ad avere un riavvicinamento con Lucrezia. Lucrezia, ci siamo sempre voluti bene.